È un gran ritorno a un animale non evidenziato, non forte, non ripetuto come mi hanno copiato i miei colleghi nelle sfilate che mi hanno preceduto, ma è un animale diciamo nuovo perché tanto effettivamente oggi in questo momento l'animale fa parte della moda, però è un animalier molto cavalli, dove oggi quasi mi vanto di aver inventato un nuovo animale, ma questo è delle pellicce e le voglio che lo guardiate perché è divertente.